Allora ragazzi, in grande esclusiva, tutta la verità, nient'altro che la verità, from Dubai dove è stato arrestato per giorni 5, secondo me ingiustamente, ma questo lo dico perché ho sentito il suo racconto in privato, anche via messaggio, qui presente in studio perché l'hanno riportato indietro, si è imbarcato da solo, quello ce lo dirà, Massimiliano Minocci, detto il brasiliano! Ma pure qua, c'hai da qui pure qua, no? Mamma mia! Vedi che di prendermi le parti perché lo stato di Dubai è dittatoriale! In un posto t'hanno bevuto, perché lì non sei, oh pietralata, allah 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 te l'ho detto, altro che pietralata, t'hanno preso per un colletto, t'hanno puntato dei fucili e t'hanno sbattuto in galera, altro che sbiri, sbiri e guardie, e non glielo dici, sbiri, sbiri e guardie, sono arrivati ai guardie, t'hanno preso per un orecchio e tu come un micino, come un micino e va tu, mia! Miau! Miau! Io sono brasiliano! Miau! 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 Non hai fatto lo sbruffone lì, perché lì la polizia ti fa un culo così a Dubai, un culo così! E infatti questo vogliamo raccontare, partiamo dall'inizio, tu eri a Dubai per quale motivo? Allora, io vado a Dubai per fare delle sponsorizzazioni a dei trading, a dei trading, quelli che fanno trading, tra l'altro che cazzo è? Come si dice? Trading! 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 A me basta che mi danno 20 sacchi a botta, poi se fanno trading, truiting, trishing, parenso, me pregato cazzo a te! Saranno contenti e non sai neanche cosa sponsorizzare, saranno contenti! 20 mila e poi siamo annoiati a come cazzo da parate! Allora, andiamo! Dunque, eri lì per quello! Ah no, no, allora Giuseppe, io veramente adesso sto ridendo perché adesso me fa ride, perché solo guardo un fascia me fa ride, però ci sarebbe da piangere, ma pare il sorcio gigante, pare un topo gigante! Elegantissimo! Basta che dice mille e quattro e mille cinque! Eri lì da quanti giorni? Da un giorno e mezzo, stavo sponsorizzando questi ragazzi, ho dovuto affittare una Lamborghini, diciamo per far scena, comunque per metterla nel video! Dobbiamo fare una premessa che i semafori di Dubai durano cinque minuti! Come cinque minuti? Cinque minuti di orologio, quindi io a tutti gli italiani dico passate con i rossi, fate bene a passare con i rossi! Lì non suona nessuno poi, il problema è che lì a Dubai sono tutti come pare, sono tutti soggetti come pare, sono tutti in fila da aspettare cinque minuti! Oh Giuseppe, ti giuro su mia madre, a un certo punto sono dovuto passare con i rossi, Giuseppe! Cioè, questo è successo, tu rifermo al semaforo! Non ci ho fatto più! E hanno sparato le gomme giustamente! Ma che cazzo mi hanno sparato! E allora? Che succede? Succede che passo con i rossi e dietro c'aveva i guardi, Giuseppe! Non le guardie! Non mi sono fermato! La Polizia Emiratina! Quattro chilometri di inseguimento! Ah, tu hai fatto, ti sei fatto inseguire dalla Polizia di Dubai! Ma volo una via, Giuseppe! Perché tutti i rossi ho preso, Giuseppe! Scusi, posso dire una cosa? Eh, Massimilio, io ti voglio bene, però tu sei a Dubai! E dovresti sapere... Ah, ma stiamo a Dubai, quindi... Ho capito, ma sai benissimo che siamo in un paese rigoroso! Lo sapevi, no? Ma capito, Giuseppe, ma cinque minuti di semafori, Giuseppe! Ma quello va bene, puoi anche avere ragione! Sei passato, sei passato! Non è l'Italia quella! Non è l'Italia! Quando ho sentito... Gli ho detto... Chiudi! Rispondi! Quando hai sentito... È la sua mamma! No, Stefano! È la mamma che chiama il brasiliano alle sette e mezza! Stefania Montemilio, non so chi sia! Come stai, amore? Oh, mamma! Non è ristrato a Dubai! Oh, parliamo di cose serie! Calma, cioè tu appena hai sentito... Appena hai sentito... Ho allungato, c'è un Lamborghini sotto il ruolo! Lì l'errore! Non è l'errore, Giuseppe! Dico, mo, i perdo, chissà... La macchina era affittata una volta... Ti è partita la vena! Eh, ma è partita la malavita quella di Roma! Ma lì non funziona, tesoro! Però ho detto, io tanto domani li la restituisco, poi do cazzo vanno a piatto di petto questi! Invece... Ma come camminava la macchina dalla polizia, Giuseppe mio? Cioè? Correva tipo il Lamborghini mio, Giuseppe! Non ce l'avevo dietro al culo, mi hanno speronato! È giusto! Stifite la mignotta! Stifite la mignotta! Dumbaresi! Dupini, come si chiamano! E che è successo dopo? Mi hanno speronato, appena mi hanno fermato... Potrebbero spararti alle ruote! Mi hanno pistato come l'uva! Ah, ti hanno pistato? Mi hanno pistato come l'uva! Poi parlavano... Ma pistato come? Come diciamo adesso! Pistato come? Con lo sfollagente pure, Giuseppe! Con lo sfollagente! Poi a un certo punto t'hanno portato? a parlare e gli dico non capisco, non capisco, ho alzato subito le mani, perché gli ho fatto vedere che ero in pace, tra virgolette! Sì, in pace! E mi hanno arrestato, mi hanno portato al blocco 1! Di dove? A Dubai! A Dubai, Giuseppe mio! Quanto sei da diria? I cinque giorni, guarda, cinque giorni dentro quel carcere equivalgono a un anno e mezzo dentro Regina Celli, quindi... E tu lo sai bene! Mezzo alla merda, al piscio, ai solci, questi si mancano, i pakistani, i libanesi, ma che cazzo ne so che c'è? Tutti i cosci, che c'è, ne sai, là! E tu com'eri? Ma hanno dato un saglio pure a me! Come un saglio? Ma le giuro, Giuseppe! Di che colore? Grigio, grigio, grigio! Tutti grigi eravate? Grigio! Quanti eravate dentro una cellula? Avrei voluto averci il telefono, io stavo pensando all'hype in quel momento, voi non ci chiedereste, ma io pensavo all'hype da quando uscivo, però dicevo speriamo che esco prima, prima di subito! Cioè tu volevi fare l'hype con quella storia dell'hype? Volevo fare l'hype! Come passavano le tue giornate, vista la tua incapacità di parlare le lingue? Niente, stavo lì, dico, ma che cazzo ti ho fatto? Pensavo di non uscire più, Giuseppe, te ti dico la verità, sono sincero! Cioè, di essere tombato a Dubai in galera? Pensavo, pensavo, ma no, ma poi la gente che c'era, pane e acqua, Giuseppe, pane e acqua del 42 il pane era, perché era dura come se... Sarei una persona non gradita ormai a Dubai! Quello manca, no, no, sto cazzo, non so, no, anche perché sabato devo tornare a lavorare, quindi c'è... Cioè, scusami un attimo, cinque giorni, tu eri distrutto, immagino? Ma stavo a pezzi, Giuseppe! Ma chi c'era dentro? Ma c'era stava lì, ma che cazzo, ma chi capisce? Ma anche l'italiano, capisco, ma che capisce che è il pakistano, ma che cazzo ci hanno parlato, ma che cazzo ci hanno parlato, ma che c'eravamo i cosi, Giuseppe, tipo il 41 bis, quelli fini fini, non so, ma quanti eravano, 20 persone dentro, ma i letti com'erano? Ma che letti? Eh! I letti? Ma che le letti? Per te, erano tutti buttati per te, Giuseppe, io la cosa che non mi scorderò mai è la puzza di culo, scusate, di piscio, di merda, di tutto, da per tutto, da per tutto, io poi me lavo le mani 70 volte, no, io sono abituato a Lilton, però scusami un attimo, tu che hai vissuto molte prigioni italiane, hai frequentato molti hotelli italiani, magari, ma restano le bibbia, ma la fa due anni alle bibbie piuttosto che cinque a Dubai, vedi cagliari, no, ma io devo rivalutare sia le carceri italiane che la polizia italiana, io li amo, ma io l'amo la polizia, a sto punto, a sto punto faccio come cazzo, mi pare in Italia, Giuseppe, io da che lo faccio come pare? insieme, come la guida Michelin, una guida ragionata sulle carceri italiane, io voglio fare una guida ragionata, scritta a quattro mani, come la guida Michelin dei ristoranti, dove tu dai proprio, anziché le forchette, mettiamo le manette, è questa bella idea, no, le catene, dal nord al sud, diciamo, da Racalmuto, no, dov'è Racalmuto, dove è Racalmuto? C'è un carcere a Racalmuto, ma è anche la città che ha dato in Italia il grande Shakespeare, Shackner, ah no Shackner, lei sa chi è Shasha? Shasha, Shasha è un amico dei miei padri, è il povero Shasha, Shasha venneva l'erba via del peperino, ti giuro su Dio, Shasha è stato un grandissimo intellettuale, il povero Shasha è stato il più grande spacciatore di erba di pietralata, ma come ti permetti? del 1974 al 92, poi morì per Averdose, perché Boraccio deve fare la verovina, non morì per Averdose, è stato un grande, si può però infangare la memoria di Shasha in questo modo, ma Shasha io conoscevo Shasha, il giorno della civetta, cazzo, l'ha mai sentito, me lo presentò a mio padre e mi disse, caro papà, lui mi disse il grande Shasha, ma Shasha che ha scritto il giorno della civetta, no, quello venneva l'erba via del peperino, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma sfreggio alla letteratura, ma quale letteratura, a Dubai, prima di essere arrestato, qualche prostituta l'hai fatta? me ne so fatta una Giuseppe, ma mi è rimasta qua, perché comunque è tutto veloce, non te la segui tu da fino in fondo, quanto votano la, quanto votano? loro ti chiedono, poi ci stanno nelle trattative, parti da 600, 500, 400, 200, 100, poi dipende, il tempo lì lo si perde nel trovare lo strumento, sono andato con una marocchina, una marocchina, 200 euro, una marocchina, lì c'è strani i massaggi a parucca, sono massaggi a parucca, poi lì ha fatto il massaggio, ti fanno la pipetta, la pipetta, ti fanno massaggio, pipetta e prova mi loco, oggi, oggi in grade forma, nonostante quello che ti è successo, mi hai mandato un messaggio che eri quasi depresso, allora facciamo una, ero morto quasi, allora posso dire una cosa ragazzi, perché in tutto questo, ma non lo hai del profilo Giuseppe, oh esatto, ti hanno distrutto il profilo, mi hanno buttato giù il profilo, non si sa chi, gli emiratini, non lo so, facciamo un appello Giuseppe, tu che conosci tutti a Meta, a Meta, si fermo, non cominciare a insultare Meta, perché non lo riapro, appunto, dico, signori di Meta, adesso faremo il possibile, bisogna fare il possibile, perché non ha fatto niente, ma anche perché 500 mila follower, un profilo valutato mezzo milione d'euro, ma tu senza quello sei morto, ma che, se mi rimetto avvenne la roba, io non so buono a fancazzo, non so buono a fancazzo, sono buono a venne solo la cocaina, io, e fai 6 storie su Instagram, oppure le estorsioni, allora, caro Meta, senti tutti, appello del brasiliano, caro Meta, se domani il brasiliano ritornerà nelle vie di spaccio, è solo, le vie dell'estorsione, no, è solo colpa di Meta, del dottor Meta, chi è il dottor Meta? Esiste? Sì, sì, da come no, c'è, quella Zub, mamma, la senti che callo, eh, chi è il dottor Meta? Ti volevo dire questo, ma non hai anche il ristorante, tu il tuo ristorante, il ristorante Brasile, sono andato a rivedere, ha aggiornato il menù, tu sei una merda, ha aggiornato il menù, il menù, tu uno va a mangiare del brasiliano, si immagina tutto tatuato, ha aggiornato il menù, perché che cosa fa lui? Io stavo carcerato, lui, l'hanno aggiornato, i suoi, i suoi collaboratori, lui fa il tortino di melanzane alla parmigiana con riduzione di datterini, e poi fa la bresaola, rucola, grana e datterini, e poi fa quest'altra cosa buonissima, che si chiama, ma questa mi manda i matti, porca troia, la bruschetta con lo stracchino e le melanzane grigliate, ma che cazzo di ristorante è? Io ti do il menù del brasiliano, deve essere penne all'assassino, straccette alla Bernardo Provenzano, tiramisudi al capone, gli spaghetti al mostro del Circeo, questo devi fare tu, il tuo ristorante va sulla via del fallimento, perché va sulla via del fallimento, ma fammi dalla grattata, ma 200 milioni, allora un'altra cosa, quanti danni ha avuto dal tamponamento, anzi io faccio un appello, ho visto che Michel Comisi fa i cosi qua, che fa Michel Comisi fa donare i soldi per fare se il sinne, io mi faccio donare i soldi, e io mi faccio donare i soldi per fa... chi è? Ci ha salutato la signorina, ma che carina poi eh, prendiamo il numero della signorina che stasera usciamoci, e voglio fare, voglio fare la stessa cosa che ha fatto Michel con con le sue sinne, io lo faccio... per ripagare i soldi... 20.000 euro si fida una mignotta della polizia... ma hai spaccato la macchina... per tamponarmi, mi hanno tamponato, mi hanno fatto... lì il faretto costa 20.000... scusi un attimo, lei sa che il 19 prossimo 21, 19 ottobre, Parenzo va a fare una visita urologica e per la prima volta di... urologi... a culo... a parte che gli piace sicuro al cento per cento... no ma adesso cosa c'è questo... gli tiramalle e mi ha messo il ditino... prenda il microfono della zanzara... ma come si permette... oh a te c'è un microfono della zanzara... lei mi hai stato dall'urologo... no io dall'urologo no... ancora no... però è caso di andare... secondo me le conviene andare... ma te dal neurologo... anche se lì siamo al... lì siamo al nanismo... lì siamo al nanismo... l'urologo andrà lì col microscopio per cercare di capire come funziona... tu dovresti andare dal neurologo che è diverso... grazie Massimo Grazie... Ciao